voglio darti tre alternative al reddito bacco ma attenzione non sto dicendo che sia un brutto profumo anzi ritengo che abbia il rapporto qualità prezzo migliore che ci sia su in questo genere perché perché costa poco e ha delle prestazioni bomba è un odore che comunque coinvolge tante persone piace a tante persone però personalmente lo ritengo leggermente dissonante ritengo che ci siano delle note leggermente dissonanti ma è una mia opinione un mio gusto ritengo che sia forse un po troppo dolce quindi in questo video voglio darti tre nomi che secondo me lo superano in questo genere di profumi secondo me e come profumi dove domina il tabacco sono superiori iniziamo il primo di cui ti voglio parlare e fan your flame di gishan un tabacco elegantissimo il tabacco più elegante che io conosca fantastico con questa nota di rum e questa nota di cocco anche molto allegro e sensuale elegantissimo veramente un profumo distinto spettacolare lineare non dissonante molto lineare molto fresco un tabacco di solito il tabacco non è una nota fresca ma in questo caso riesce ad esserlo con il cocco che lo rende più morbido più fresco più piacevole veramente fantastico questo invece non ha bisogno di presentazioni veleno d'ore di laurent mazzone questo è il tabacco più erotico più caldo più coinvolgente che possa mai esistere qua abbiamo una foglia di tabacco intrisa nel rum è lavorata sapientemente con una punta di amarena o di ciliegia non mi ricordo comunque avete capito il senso qualcosa di estremamente sensuale e poi per ultimo ti faccio vedere il mio preferito nel senso quello che indosserei in più circostanze perché mi piacciono tutti quello più moderno quello più versatile quello più accattivante quello che lascia le persone interdette ti fa ti fa prendere molti complimenti non può non piacere questo tipo di tabacco ovvero erot di parfum de marlì questo è un tabacco molto romantico molto suave molto piacevole perché nel cuore abbiamo oltre al tabacco una nota di osmad questa nota fiorita così piacevole che prende tanti complimenti che piace tantissimo alle donne nel fondo si sente tantissimo la vaniglia per me è il migliore un tabacco molto moderno e versatile spettacolo